No, durante la lezione non mi sono sentita particolarmente affaticata o affannata. No, in questa lezione non mi sono sentita particolarmente affannata. Nel tantissima lezione non mi sono sentita mai affaticata e tantomeno affannata. Il giusto. Ma ti sei divertita però? Moltissimo, come sempre. Durante questa lezione penso di averne consumate intorno alle 250. Hai consumato 450 calorie. Grande, domani ripetiamo. In questa lezione penso di averne consumato poche calorie, ma 100. Hai consumato poco meno di 400 calorie. Ho consumato, ho lavorato, penso 300. Hai consumato 500 calorie. 500 calorie, ah, c'è il mio! Stasera spero di aver consumato 250 calorie. Hai consumato 487 calorie. Wow!